Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Questo è un video diverso dal solito, che è un video challenge, appunto la Whisper Challenge, in compagnia di... Nella sorella. Allora, come si svolgerà questa challenge? Leggeremo tre proverbi a testa. Li facciamo alternati, no? Consecutivi? Consecutivi. No, alternati, perfetto. E oltretutto abbiamo cinque tentativi a testa per far indovinare un proverbio. Quindi in totale, se sono tre proverbi, ci sono quindici tentativi a testa. E appunto, chi perde pagherà una penitenza, che molto probabilmente non sarà in questo video, ma in un prossimo video. Quindi, niente, cominciamo. Tutto a posto, è partita la musica? Ok, la musica è partita. Vediamo un po'. A duro cippo, dura accetta. A duro cippo, dura accetta. Ha capito niente! Niente proprio! Niente proprio! A duro cippo, dura accetta. A duro cippo, dura accetta! Bravo! E una l'hai indovinata, tocca a me. A tutto c'è rimedio, forché la morte. Attenzione! A tutto c'è rimedio, tranne che alla morte. No. Come no? E non è giusto. A tutto c'è rimedio, tranne la morte. No. Oh mio Dio, ripeto. A tutto c'è rimedio. A tutto c'è rimedio. Forché alla morte. Ah! Forché alla morte. Forché alla morte. Standing ovation. Round two. Fight. Ci sei? Beh. Benissimo. Acqua e chiacchiere non fanno frittelle. Acqua e chiacchiere non fanno frittelle. Acqua e chiacchiere non fanno frittelle. Acqua in testa. Acqua e chiacchiere non fanno frittelle. Provaci. A quanto stiamo? Quattro. Ti manca l'ultimo? Sì! Rifai! Acqua e chiacchiere non fanno frittelle! C'è frittelle da una parte? Sì! Acqua! Ok! E qualcosa non fanno frittelle! Eh, ma qual è il qualcosa? Acqua! Acqua e friarelli! E' ancora F? No! Acqua e chiacchiere non fanno frittelle! Acqua! E chiacchiere! E chiacchiere! Non fanno frittelle! Però mi dispiace! E che significa? Eh non lo so, sta scritto qua! Tocca a te! Allora! Quindi questa l'hai persa! Quindi questa l'hai persa! Chi d'estate secca serpi! Nell'inverno mangia anguille! Il dentista se lo rompi bacia il ferro! Cazzo hai detto! Cazzo hai detto tu! Chi d'estate secca serpi! Chi? No 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 no! Allora! Chi? Il? Chi? Dentista! Chi? Gli? Chi? Il? Chi? Chi? Il? Chi? Stai perdendo eh! Cosa? Stai perdendo! Non ho capito! Chi d'estate? D'estate! Chi d'estate! Chi sale? Chi? Chi? D'estate! Sanzate! D'estate! 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 E! Ah ok! Chi d'estate? Secca serpi! Non ho capito! Secca serpi! Chi d'estate? Secca serpi! Che cazzo hai detto! Cazzo! 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 Secca! 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 Serpi! 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 E? Chi d'estate secca serpi! D'inverno! Il ferro! D'inverno! D'inverno! Eh cioè? Mangia anguille. Mangia anguille? Perché? Che cazzo significa? Non lo so, comunque hai perso. Vabbè, ho perso. Ho perso, ho perso, è persissimo. Round 3. Fight. Chi è schiavo delle ambizioni a mille padroni? Giusto? Sì. Chi è schiavo delle ambizioni a mille padroni? Chi è schiavo delle ambizioni a mille padroni? Aspetta, chi è schiavo delle, non lo so, a mille padroni? Ok. Chi è schiavo delle ambizioni? Apprezzioni? Ambizioni? Appenzioni? E pensa però! Chi è schiavo delle... Apprezzioni? Apprezzioni? No, ambizioni? Basta, è finita. No, ma io aspetta, chi è schiavo? Ambizioni? 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 Ambizioni! Chi tiene il... L'Inter? No. Chi tiene il letame nel suo letamaio? Fa triste il suo pagliaio. Insieme a te a scegliere un luogo più corto? L'Internet? Come no? No. Chi tiene? Chi tiene? Internet? Chi tiene? Chi? Gli? Gli italiani? Chi? Gli? Chi? 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 È sempre il famoso chi? 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 Chi tiene? Chi siete? Tiene? Sere? Tiene? Siete? Tiene? Siete? Tu? Tiene? Chi siete? Tiene? No, non... Tu? Tu? Chi tiene? 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 Chi? Chi? Chi deve? Chi deve? Tiene? Tiene? Chi? Tiene? Io capisco Dede? Tiene? 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 Chi tiene? Vabbè, mezzo. Vabbè, però, continua. Il... ti tiene il... letame. Catrame. Letame. Letame. Nel... nel... letamaio. Letamaio. Fa triste. Va a dire. Fa triste. Fa. Fa. Triste. Dire. Triste. Dice. Triste. Tilte. No. Triste. 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 Triste, sì. Ma cosa? Il suo... il suo... paiaio. Maialo. Paiaio. 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 Eh. Quindi? Chi tiene il letame nel suo letamaio fa triste il paiaio. Chi è? Ok, ho perso. Allora, non so... non so quanto stiamo, non so che è. E niente, alla fine è finita uno a uno, quindi la penitenza me l'avete scritta su Instagram. in parecchi. Alcuni li ho ripostati, alcuni no, perché non potevo. Sono anche state votate le penitenze, però purtroppo è finita uno a uno, quindi nessuno può fare la penitenza e pacienza. Al prossimo video magari ci sarà un vincitore, un perdente e ci sarà la penitenza. Fatto sta che adesso... niente. Quindi... concludiamo il video. Quindi, per questo video è tutto. Vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su qua sotto se vi è piaciuto. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Seguitemi anche su Instagram per avere anticipazioni su tutto quello che sono i video, il canale e la mia vita privata. Quindi niente, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!